Buonasera, abbiamo atteso i dieci minuti prima di cominciare, però adesso vediamo che siamo già numerosi, quindi vi do un cordiale benvenuto e anche i saluti del nostro sindaco che rientrerà a mezzanotte da Roma e di tutta l'amministrazione, abbiamo qui con noi anche il Presidente del Consiglio, faccio sicuramente il benvenuto al nostro Professor Zoya che è il relatore e al suo interessantissimo argomento di cui ci parlerà e un particolare grazie all'associazione che organizza questo bellissimo festival, devo dire che io l'ho intercettato l'anno scorso un po' quasi casualmente, quindi soltanto la quarta edizione e da subito abbiamo concordato di portare ad Arona qualcosa di più rispetto a quello che c'era l'anno scorso. Vi do due parole ma proprio non voglio rubare tempo, ma siccome appena mi sono seduta mi è stato detto che bello questa sala e vedo tante facce che non conosco e magari non sono di Arona, quindi particolare benvenuto a chi è fuori città, questa era la chiesa, la cappella di quello che era prima il Collegio dei Filippi, quindi noi ci troviamo su quello che era l'altare ed è per questo che ci sono anche questi bei quadri ed è una stanza anche un po' particolare, quindi mi faceva piacere così dirvelo. Ringrazio ancora il Presidente Volta per tutto quello che sta facendo e tutti i suoi collaboratori, il Professor Piana che ormai anche qui ad Arona con la sua associazione si spende sempre per momenti che credo siano il sale perché sono un'aggregazione fra di noi, un metterci insieme per dibattere di cose importanti, un parlare al di là di quelli che sono ormai social che nessuno vuole demonizzare ma qualche volta insomma parlarci guardandoci negli occhi e avendo la voglia ancora di uscire di casa una sera per ascoltare certi argomenti forse vuol dire diventare un pochino una società migliore, quindi grazie ancora per quello che fate e grazie al relatore e buona serata a tutti. Buonasera, io vorrei darvi il benvenuto a nome dell'Associazione Dignità e Lavoro Cecco Fornara e anche a nome del comitato organizzatore del festival. Con il Professor Luigi Zoia noi inauguriamo il primo evento che si tiene in questa splendida sala come ha ricordato l'assessore e per questo vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale di Arona e naturalmente l'assessore nella persona della dottoressa Marisa Grassani perché con la sua grande sensibilità e disponibilità ci ha permesso collaborando con noi anche quest'anno di essere qui questa sera e naturalmente di creare sul territorio una rete che ci coinvolge in maniera sempre più ampia e capillare. Grazie a tutti e buona serata. Buonasera e benvenuti anche al nome del gruppo di ragazzi volontari. Vorrei segnalarvi che all'uscita è possibile acquistare il libro che contiene gli atti della quarta edizione del Festival della Dignità Umana. Il testo la cui realizzazione è stata curata dalla signora Giuseppina Cerutti è il frutto di un impegnativo lavoro di alcuni volontari. Vorrei sottolineare anche che parte del ricavato del libro verrà destinato a raccogliere fondi per sostenere alcune borse lavoro. La borsa lavoro è uno strumento formativo che ha lo scopo di favorire attraverso un'esperienza pratica l'inserimento nel mercato del lavoro dei giovani ed è particolarmente adatta a persone appartenenti alle cosiddette fasce deboli che in cambio dell'attività prestata ricevono un compenso economico. L'esperienza avrà presso un'azienda o una cooperativa sociale avrà la durata di sei mesi. Si ritiene che tal'iniziativa abbia un alto valore sociale in quanto il lavoro motiva l'essere umano, genera oltre che sostegno economico dignità e speranza, valori indispensabili per il futuro delle persone. Quindi vi esorto caldamente a contribuire a questa iniziativa acquistando il libro. Grazie. Ricci Zoya, nato nel 1943, diplomato nel 1974 allo Jung Institute di Zurigo. Ha lavorato in clinica a Zurigo, poi privatamente a Milano, a New York e ora nuovamente in Milano come psicanalista. Presidente del Centro Italiano di Psicologia Analitica dal 1984 al 93. Dal 1998 al 2001 presidente dell'International Association for Analytic Psychology, l'associazione che raggruppa gli analisti junghiani nel mondo, poi presidente del Comitato Etico Internazionale della stessa. Già docente presso il Carl Gustav Jung Institute di Zurigo, presso l'Università dell'Insubria e attualmente visiting professor alla Beijing Normal University. Ha tenuto corsi e conferenze presso l'Università e altre istituzioni in Italia e nel mondo. Tra i suoi ultimi libri la morte del prossimo, psiche e vedere il vero e il falso. Lo psicoanalista Luigi Zoya esporrà un'analisi delle relazioni tra le persone, relazioni fondamentali per costruire il futuro. In uno dei suoi libri intitolato La morte del prossimo, su cui noi studenti abbiamo lavorato, Zoya spiega che a causa delle nuove tecnologie abbiamo ucciso il prossimo, ovvero le persone a noi più vicine. L'autore intende quindi che siamo in grado di fare a meno del prossimo, perché abbiamo la possibilità di sostituirlo con persone lontane con cui ci attiamo o addirittura con personaggi famosi con cui di fatto non abbiamo nessun contatto. Discutendone tra coetanei abbiamo notato che questo punto è estremamente vero. Il recente fenomeno delle serie tv, che sostituiscono un film di circa due ore proponendo una vasta successione di puntate, porta lo spettatore a sentirsi completamente parte della vicenda narrata e a vedere i personaggi come propri amici. Addirittura qualcuno di noi si è accorto di partecipare così intensamente alle storie viste sullo schermo da provare emozioni di gioia o tristezza per giorni o settimane. Sì, perché le puntate di una serie sono accessibili da piattaforme come Netflix, che abbiamo installato sul telefono, e tutti noi ne vediamo tante, una dopo l'altra, in pochissimo tempo. Questo rende l'esperienza ancora più forte e reale. La conferenza quindi risponderà ai nostri interrogativi, cercando di farci capire meglio un fenomeno che capiamo solo in parte proprio perché siamo totalmente immersi in esso. Noi ragazzi infatti, nati possiamo dire con il cellulare in mano, non possiamo confrontare la nostra epoca con quella precedente, come fa l'autore nel suo libro. E soprattutto ci chiediamo per quale ragione gli adulti ce l'abbiano messo in mano subito il cellulare collegato ad internet. Loro che sono più consapevoli di noi dei rischi di una comunicazione virtuale. Siamo preoccupati infatti della convenzione di poter fare a meno dei rapporti concreti o della ricerca di sicurezza nel mondo virtuale. Siamo preoccupati della possibilità di affezionarci a persone mai incontrate concretamente e ci chiediamo come possiamo impostare il nostro futuro. D'altra parte ci sentiamo anche di evidenziare che noi ragazzi, forse più degli adulti, usiamo veramente i social per comunicare. WhatsApp ha sostituito la telefonata per chiedere compiti o decidere di ritrovarsi. Instagram ci permette di condividere esperienze, Twitter di esprimere un'opinione. Per noi adolescenti ha ancora sostituito il piacere di ritrovarsi faccia a faccia con i nostri amici. Certo poi c'è chi esagera e perde il controllo. Chiediamo al professor Zoya di aiutarci a capire come gestire tutte queste possibilità comunicative senza che invadano del tutto il nostro tempo portandoci via alla bellezza di un vero incontro. Io chiedo Venia perché non ho fatto un appunto a questo. Un ringraziamento particolare all'associazione per quanti giovani è coinvolto e perché negli appuntamenti a cui ho partecipato fino adesso i giovani hanno dato veramente un contributo non solo di presenza perché ci sono sempre ma devo dire che nelle parti finali, nelle domande avete sempre fatto degli interventi che hanno chiarito quasi le cose anche a noi. Per cui mi scuso per non avervi citati quasi per primi perché proprio per come sono i tempi, per quello che è appena letto è lodevole che siate qui e che così in tanti partecipiate a questa cosa e grazie a voi che li avete saputi coinvolgere. Scusi per il tempo rubato. Ma io non devo scusarsi di avermi preso il microfono perché quasi quasi lo lasciavo ai ragazzi. Soprattutto a quest'ultima ha già fatto la metà della conferenza. Veramente è notevole parlare con i liceali e ascoltarli, non soltanto parlare a loro. Comunque ringrazio anch'io veramente l'associazione, l'assessore e spero di di essere all'altezza di tutte queste aspettative. La mia conferenza diciamo si discosta un po' da quello che ho detto in La morte del prossimo e quel libretto a cui i ragazzi si sono riferiti, anche se nel finale prendo in esame il problema dell'integrazione in generale in una società moderna o postmoderna, come vogliamo chiamare quella comunque in cui viviamo, anche sotto il profilo dell'invasione delle tecniche che sostituisce sostituisce in buona parte la società delle presenze con delle presenze virtuali e digitali. Per esempio mi verrebbe da chiedere a questa ragazza che ha parlato ora se cosa ne pensa di una cosa che si dibatte nella mia professione e cioè la psicanalisi fatta per Skype. Io credo di essere abbastanza un dinosauro, forse anche perché per la mia età ho comunque molto lavoro e non accetto in genere sedute per Skype. Anche nella mia professione, come in tutte le professioni, c'è invece nelle classi più giovani una certa sotto occupazione, quindi sento che si fanno molte sedute per Skype. Mi domando se però sia la stessa cosa, se c'è una cosa che chiamiamo presenza che possa essere sostituita dalla virtualità. Per esempio ho dibattuto con qualche teologo, mi sembra che la Chiesa in generale accette la consultazione ma non la confessione per mezzi tecnologici e la nostra professione ha molte analogie. Comunque cerchiamo di partire dall'inizio e cioè come integriamo nella nostra società gli altri e in particolare un tema di cui si parla sempre di più nel nostro paese oggi. Sono arrivato un po' al pelo anche alla televisione ancora a parlare di questo. Noi dobbiamo andare indietro e indietro diciamo alle origini e quindi anche io che sono psicanalista quindi che mi occupo dell'aspetto psichico, penso dobbiamo andare ancora più indietro e cioè alla nostra parte animale prepsichica perché noi siamo anche degli animali, noi umani l'umano è una specie animale e quindi abbiamo degli istinti. E quantomeno la nostra psiche è differenziata e riesce a comportarsi con coerenza tanto più noi possiamo scivolare indietro e reagire come chiede la nostra parte animale cioè nel dubbio e nell'avvicinarsi di un pericolo noi possiamo andare sempre più indietro. Cosa intendiamo per istinto? Per esempio, mi scuso, cerco di oscillare un po' perché ho visto, sono venute anche persone a chiedermi di autografare dei miei libri che sono non facilissimi, allora che conoscono il linguaggio psicologico mentre penso per esempio i liceali, ovviamente quelli che sono qua sono i più curiosi ma non sono abituati a un certo tipo di linguaggio. Ora, nella mia formazione jungiana piuttosto non freudiana contano gli archetipi. Freud si basa ancora in qualche modo sull'istinto, Jung va più in là però l'archetipo, che cos'è l'archetipo? È una tendenza comune a tutta l'umanità a non solo agire col proprio corpo ma anche a produrre attività mentali che hanno una certa direzione comune anche senza averlo appreso e un modo per spiegare questi concetti che ovviamente sono piuttosto complessi e richiederebbero una vita di dibattiti sta nel dire che l'archetipo è in qualche modo il corrispondente a livello psichico di quello che di solito chiamiamo istinto a livello fisico. Quindi cerchiamo, e mi scuserò, di oscillare tra quello che è la parte più puramente fisiologica e quella che è psichica, la nostra attività mentale che gli animali non hanno o hanno solo in misura molto limitata. Quando pensiamo alla parola istinto intendiamo tutti corriamo alle cose più semplici ovviamente a quello da cui è nata la psicanalisi, cioè la sessualità la psicanalisi è nata dalla constatazione a fine ottocento che era troppo repressa e che questo causava disturbi nel funzionamento anche se la cosa non era cosciente della mente. Oggi sicuramente viviamo in un mondo completamente diverso in cui ci sono infinite, ovviamente alcuni dicono troppe possibilità sia quantitative che qualitative, di esprimere la propria sessualità. Anche l'altro istinto a cui ci viene subito di pensare è quello della fame, la nutrizione. quello è l'istinto base, uno quello che ci conserva in vita e l'altro quello che ci permette di trasmettere la vita. C'è un altro istinto ancora però fondamentale ovviamente anche la fame, la nutrizione, l'appetito come lo si voglia chiamare ha subito un'estrema modificazione nell'ultimo secolo nel senso che un secolo fa c'era chi era sottonutrito gran parte dell'Italia era sottonutrita quasi di colpo, quasi senza accorgersene siamo passati all'epoca successiva in cui uno dei problemi fondamentali è dato invece dalla ipernutrizione dalla sovrappeso, obesità o comunque diciamo diabete per recessi di zuccheri, colesterolo alto eccetera eccetera quindi l'essere umano è specializzato nel procurarsi l'infelicità come sappiamo, no? C'è niente di più complicato pare che lo dicesse già un certo Sofocle nel coro dell'Antigone uno dei pezzi più famosi che i liceali magari conosceranno meglio di me quindi meglio non entrare in questo ma un altro istinto invece di cui parliamo poco è l'istinto del territorio questo è assolutamente un istinto animale lo sappiamo se abbiamo in particolare un cane, un gatto in casa però anche se non abbiamo studiato zoologia sappiamo che gli animali conoscono il loro territorio tendono a difenderlo hanno esitazioni a avventurarsi al di fuori diventano aggressivi se si entra eccetera eccetera ecco per quello che riguarda il territorio invece a differenza della fame o della sessualità le possibilità dell'uomo hanno continuato a diminuire nel tempo e oggigiorno con le attuali condizioni demografiche del continente in fondo in cui si vive meglio come l'Europa certamente praticamente nessuno ha sufficiente territorio quindi la città in particolare che è il concentrato poi del successo umano del progresso dove si realizzano sia i progressi culturali che tecnici è un agglomerato in realtà molto artificiale e lo sanno bene i politici perché il gestire questa complessità man mano facciamo nuove invenzioni introduciamo nuovi servizi ma sorgono sempre nuovi problemi anche perché comunque ci pestiamo tutti i piedi il nostro istinto richiederebbe territori ovviamente più vasti pensiamo un attimo a una cosa in realtà se noi calcoliamo è difficile sapere qual è il territorio giusto per l'umano allo stato di natura per civiltà però sappiamo che prima che venisse inventata l'agricoltura l'essere umano era comunque un cacciatore raccoglitore quindi si spostava quindi la densità della popolazione era scarsissima e lo spazio che ogni essere umano poteva considerare proprio era infinito rispetto a quello di oggi oggi il più il più Berlusconi di noi con 50 ville immense vive in una maniera da questo punto di vista assolutamente costretta e artificiale rispetto a quello che sarebbe il nostro istinto del territorio ma lasciamo perdere le ville e i nostri appartamenti più confortevoli pensiamo a una cosa pensiamo che chi vive in città o perlomeno in una città come Milano dove vivo io per esempio moltissime persone usano la gran parte i mezzi pubblici e una gran parte la metropolitana in un vagone della metropolitana si entra in un centinaio di persone e ci sono pochi posti a sedere la maggior parte sta in piedi pensate un attimo siccome noi siamo appunto anche animali e vi chiedevo di andare con la fantasia a queste due tre cose che sappiamo tutti e che i liceali sapranno ancora meglio no grosso modo l'agricoltura è una cosa delle ultime migliaia di anni prima appunto nelle ultime decine di migliaia di anni si passa dal comunque dal paleolitico al neolitico e col passaggio dal paleolitico al neolitico il corpo umano lo sappiamo da tutti ovviamente non c'era niente di scritto ma lo sappiamo dalle ossa che si trovano era quello di oggi quindi presumiamo che anche gli istinti fossero quelli di oggi e ovviamente questi istinti questi istinti del territorio sono stati fortemente compressi se noi chiedessimo ai nostri parenti animali più vicini cioè gli scimpanze di entrare che sono molto intelligenti che imparano moltissimo ma proviamo a insegnare a cento scimpanze a entrare in un vagone metropolitana guardate che anche gli zoologi migliori vi diranno che è un po' probabilmente impossibile scoppia il vagone scoppiano soprattutto delle risse prima fra maschi poi fra tutti si massacrano quindi cerchiamo di pensare allora a qualcos'altro che è continuamente riprodotto sia in questo momento voi mi guardate vi guardate tra di voi ma sia soprattutto riprodotto all'infinito oggi per internet e soprattutto col passaggio che ormai è stato effettuato dalla comunicazione scritta facebook a quella a instagram alla comunicazione invece sempre più per immagini il sorriso che è una cosa fondamentale il sorriso dovrebbe costituire un riconoscimento fra gli umani io non sorrido nel vuoto però sorrido quando incontro qualcuno bene quando si entra in un vagone metropolitana in realtà delle famose faccine gli muoiono bocca in su bocca in giù in realtà dovremmo essere tutti con la bocca in giù per buona educazione semplicemente si rimane rigidi ma questo è stato anche discusso studiato i nostri muscoli facciali in una civiltà urbana sono sempre un po' contratti perché abbiamo bisogno di centomila creme vengono perché non è più naturale la nostra faccia noi dobbiamo continuare ad atteggiarci in qualche modo a recitare una parte perché perché incontriamo infinite persone e anche per esempio qui in una città di media dimensione in un gruppo ristretto come questo dove immagino molte persone si conoscano sono quelle che frequentano di più le attività interessanti però non è che si conoscano tutti e quindi diciamo noi reprimiamo continuamente i nostri istinti e anche la nostra postura cerchiamo di assumere delle pose civili ma tutto questo richiede una certa artificialità e sto introducendo la mia conferenza che è quella dell'integrazione del diverso perché in realtà vi sto dicendo che anche fra di noi persone magari in maggioranza laureate che hanno tante letture tante conoscenze e tanta buona educazione qualche difficoltà la proviamo basta quello non lo voglio più vedere mi sta antipatico eppure per motivi che so io di condominio o di riunioni politiche eccetera ancora quella faccia lì devo incontrare questo è quindi noi in realtà lavoriamo quotidianamente contro i nostri istinti in questo senso non è vero soltanto quello che ha detto Freud a fine ottocento che lavoriamo un po' troppo contro i nostri istinti sessuali noi lavoriamo contro i nostri istinti anche in altri sensi e dobbiamo creare delle convenzioni civili il nostro istinto è non fidarci dello sconosciuto purtroppo e ovviamente ci sono diversi gradi di sconosciutità non so se sia giusto il sostantivo per cui ovviamente vedo uno che appartiene a questo ambiente non lo conosco come mai è qui però poi vado fuori vado non so nel sud Italia dove la parlata è differente vado in un altro continente dove il colore della pelle è differente sempre di più la lingua è incomprensibile e ovviamente aumenta questa reazione istintiva della diffidenza cosa si può fare allora man mano che il nostro paese diventa e qua esisteranno immagino centomila opinioni un paese anormale perché si popola sempre di più di migranti di stranieri oppure c'è anche un altro modo diventa un paese normale cioè diventa un paese europeo relativamente ricco malgrado noi ci lamentiamo di non essere ai primi gradini dell'Europa ma siamo a scala mondiale comunque un paese molto benestante quindi abbiamo avuto comunque negli ultimi decenni un grande afflusso di persone da culture molto diverse allora potremmo fare l'ipotesi per esempio che tipicamente lo vedo si creano dei problemi nei vagoni della metropolitana di nuovo per parlare di una situazione estrema dove lo spazio è estremamente ridotto si creano delle situazioni di diffidenza in particolare quando ci sono molte persone visibilmente straniere con un colore a pelle dei vestiti o delle lingue assolutamente incomprensibili si potrebbe ovviare facciamo un'ipotesi l'amministrazione della metropolitana potrebbe dire un vagone tutto per italiani un vagone tutto per stranieri la butto lì potremmo arrivare anche a questo cioè noi stavamo dicendo cosa può essere il nostro futuro potrebbe arrivare anche a questo si potrebbe arrivare quello che penso e quello che ci fanno pensare gli studi di sociologia di psicologia e di etologia umana perché stiamo parlando della parte zoologica dell'umano ci dicono che probabilmente in un primo tempo e per qualche tempo ci sarebbe un certo sollievo c'è un paese in cui questo è stato estesamente tentato però lo sapete tutti questo paese si chiama Sudafrica e la cosa non ha retto ha causato ovviamente una opposizione a livello internazionale a livello delle Nazioni Unite di reti dell'uomo eccetera eccetera e anche a livello interno ribellione contro questo ordine quindi senza entrare in questa ipotesi così fantascientifica quello che possiamo dire in generale è che probabilmente questa o simili soluzioni porterebbero qualche sollievo per un periodo di tempo breve il problema è che la conoscenza grosso modo della società umana ci dice che è quasi sicuro che in un tempo invece più lungo sarebbero molte di più le complicazioni rispetto a questo momentaneo sollievo il problema è che noi però sentiamo la differenza quando ci avvicinano troppi esseri differenti noi sentiamo la differenza come un pericolo perché il nostro istinto e proprio per quello dicevo l'istinto del territorio noi torniamo allo stesso territorio perché nello stesso territorio ci sentiamo comunque più sicuri ma diciamo la cosa più banale che tra l'altro mi tocca molto spesso discutere con molti pazienti dico ma per carità potevi immaginare il problema di lavoro o problema di coppia ma io sapevo che facendo questo mi è già capitato tante volte finiva in una in una litigata sul lavoro o in una litigata coniugale eppure ci sono ricascato e l'ho rifatto ma anche la psiche è fatta di territori che tendiamo a rifrequentare e io faccio sempre l'esempio dell'animale in gabbia se voi avete tenuto un animale per tanto tempo in gabbia apritegli la gabbia ma vedrete che per un bel ci vuole del tempo insomma varia a seconda dell'animale e delle circostanze ma non è affatto detto perché perché anche lì ovviamente si sente più sicuro nel proprio territorio anche se quel territorio era artificialmente ristretto queste cose in un certo senso spero che siate d'accordo con me ma questo è l'istinto insomma non c'è poco da discutere sono dei dati di fatto quindi noi da un lato dobbiamo educare i nostri istinti ho iniziato parlando dell'istinto sessuale ahimè per esempio quello comunque oggi ci sono infinite più libertà in più però queste libertà hanno a loro volta comunque dei rituali che proteggono che ci vedono per esempio in metropolitana ecco quello è sempre molto imbarazzante perché facilmente si regredisce laddove non c'è il controllo non ci sono i rituali salta fuori ogni tanto che ci sono i pervertiti che fanno i toccamenti che salgono apposta sui mezzi pubblici per soddisfare eccetera eccetera però in linea di massima teniamo comunque i nostri istinti sotto controllo e al tempo stesso il problema con l'istinto è che l'istinto si sente l'istinto non è come il pensiero noi possiamo argomentare con altri spiegare un punto di vista discutere un altro punto di vista trovare un punto di incontro intermedio il problema con l'istinto è che l'istinto è così lo sento se per esempio mi metto a tavola non mi aspetto che qualcuno mi chieda perché mi metto a tavola e mangio ho fame mica devo spiegare tutte le volte che cos'è questo ci sono certi orari in cui le famiglie normalmente si siedono a tavola e mangiano ecco anche per l'istinto della territorialità e la paura e i pericoli gli animali hanno un sacco di rituali in cui disinnescano la propria aggressività per esempio anche gli animali hanno problemi di territorialità alle volte sono anche loro in gran parte nomadi tante specie animali quindi possono poi incontrarsi nel raggio di azione di altri animali e si porgono dei doni o comunque si toccano di nuovo l'esempio più studiato è quello delle grandi scimmie perché sono più vicine a noi ci sono gli atti di sottomissione fra gli animali che hanno degli strumenti di lotta come i lupi il lupo che perde il confronto porge la gola e non viene ucciso le grandi scimmie si toccano e si scambiano addirittura dei doni da noi tutto questo non è vero che sia andato perduto ma è sempre un po' al limite naturalmente se si determina e qui viene il problema del diverso se si determinano situazioni nuove può essere che torni fuori sotto al nostro strato civilizzato l'essere più primitivo noi per esempio abbiamo proprio questi rituali del non invadere ponete mente a una cosa siamo appena stati a un ristorante se in un ristorante siete a una tavola avete bisogno di una sedia in un tavolo vicino c'è qualche sedia in più andate al tavolo vicino e prendete una sedia però di solito chiedete permesso e fate un sorriso a quelli che sono già seduti cioè ci sono dei rituali che derivano poi ancora da questi antichissimi problemi di delimitazione del territorio perché ovviamente al ristorante il tavolo è un po' il territorio io non devo superare certi limiti e tutte queste tutte queste i rituali come dice la psicanalisi dice l'antropologia servono a proteggerci prima di tutto a proteggerci da noi stessi dalla nostra parte appunto più animale che potrebbe mostrare un lato distruttivo un lato aggressivo il problema è e qui concludo questa parte della mia relazione il problema torno a quello che ho detto all'inizio che comunque noi viviamo costantemente in condizioni innaturali noi non so se qualcuno è familiare col nome di Robin Dunbar uno scienziato di Oxford che ha studiato queste cose un antropologo paleontropologo neurologo eccetera eccetera ha ricostruito che il fatto molto semplice che corrisponde poi a quello che sapevano gli antropologi studiando le cosiddette società primitive quelle senza una cultura scritta noi saremmo fatti per immagazzinare un certo numero di facce e non di più e questo corrisponde 150 massimissimo 200 e questo corrisponde anche al fatto che addirittura fino a un secolo fa la gran parte della gente anche in Europa incontrava 200 persone ma non nella giornata nella vita e quindi il sistema nervoso si è evoluto per memorizzarle e questo è molto importante infatti lo chiamano la soglia dove cominciamo a far confusione oltre i 150 infatti si chiama il Dunbar Number e noi viviamo sempre immersi in un sovraccarico di questo tipo quello che è interessantissimo naturalmente è l'applicazione al mondo di internet e al mondo virtuale in cui vivono i giovani perché io non ho mai frequentato nessun social non ho mai avuto ma ovviamente un minimo so cosa e c'è chi dice o comunque il sistema dei social è fatto in modo che probabilmente i più frivoli possano dire io ho mille amici io ho più di mille amici questo il professor Dunbar dice è una completa idiozia è una contraddizione del termine amicizia perché noi non riusciamo a ricordare chi è quella persona cominciamo a far confusione sul sul volto non sul nome allora il rifiuto della diversità come sappiamo è stato radicalizzato infinite volte nella storia se vogliamo passare alla massa ovviamente i casi più noti sono quelli del secolo scorso per esempio il caso di Hitler che ha dato una spiegazione il problema è che il rifiuto diciamo il rifiuto eccessivo dicevo la diffidenza è naturale questa diffidenza può superata una certa soglia diventare quello che la psicopatologia la psichiatria chiamano paranoia cioè se è radicale e corrisponde di solito la paranoia a una completa mancanza di capacità psicologiche il paranoico per dirla in due parole è una persona che manca di psicologia non sa guardarsi dentro quindi non sa fare autocritica e tutte le volte che qualcosa va male non avendo una dimensione interiore non cercando l'origine di quello che va male dentro di sé la deve vedere all'esterno quello che si chiama banalmente ma lo saprete anche voi perché il termine è usato scissione di un contenuto interno e proiezione attribuzione agli altri Hitler aveva teorizzato che ma non era solo Hitler nella prima parte del novecento era ancora così si usava in modo confuso la parola razza confondendo razza e cultura per esempio dicendo comunque che se un paese si imbastardisce tutto peggiora e quindi la prima cosa era eliminare le minoranze e soprattutto gli ebrei che erano la minoranza più prominente che complottava per prendere il potere come succede poi ai buoni paranoici non ha mai dato una dimostrazione di questo complotto però è passato all'atto e ha fatto le leggi razziali e ha scatenato quelle che sono stati i peggiori elementi i peggiori eventi del secolo passato quindi c'è questa cosa poi di nuovo estremamente complessa in un certo senso dicevo Hitler e la cosa non è molto diversa per Stalin che ha applicato lo stesso problema lo stesso atteggiamento di rifiuto radicale non a quella che era una lotta razziale o nazionale ma la lotta di classe chi era classificato come cos'era il culachino contadino ricco andava eliminato in un modo o nell'altro ecco e il problema è che si parte da un istinto anche lì animale che è il rifiuto della diversità il problema è che questo istinto poi non viene vagliato attraverso categorie umane della complessità e della conoscenza ma si passa alla azione all'azione tant'è che la paranoia è stata anche chiamata la follia lucida cioè c'è un'idea di base che è chiamato il fondamento di Pietro il fondamento granitico che non manca non manca mai e che non può essere modificato il diverso va eliminato e poi i passaggi successivi possono essere anche logici prendono una forma politica prendono una forma di argomentazioni e quello che succede di fatto è che di nuovo si cade in un rito senza rendersi conto di come appunto i riti siano complessi e parte della civiltà umana ma nel più antico di tutti i riti che gli antropolici ci hanno detto appartenere a tutte le società umane e rappresentare purtroppo uno dei primi stadi il rito del capro espiatorio in una civiltà molto semplice quando qualcosa va male le spiegazioni di questo andar male non sono scientifiche come le nostre ma sono magiche per esempio una coltivazione va male o una tribù che vive di pesca non ci sono più pesci si pensa che qualcuno abbia buttato il malocchio abbia fatto una magia nera allora si elimina quella persona poi pian piano si dice gli uomini si sono evoluti hanno imparato a rendere simbolica questa cosa hanno eliminato un animale tipicamente il capro che ha le corna come il diavolo eccetera eccetera però quello che è interessante a livello di psicologia collettiva è che evidentemente anche lì per un breve tempo il rito del capro espiatorio funziona cioè restituisce una sensazione di sollievo all'interno della tribù esattamente come applicato su scala gigantesca in una nazione moderna il rito del capro espiatorio ripreso in altri termini come teoria razzista da Hitler o da altri ha in parte funzionato il paese funzionerà meglio eliminando gli ebrei e altre minoranze quindi ci sono usando in qualche modo degli atteggiamenti paranoici mi sono permesso questa scivolata verso prendo ancora una decina di minuti va bene questa scivolata verso non solo la mia disciplina psicoanalitica ma anche proprio la psichiatria perché la paranoia a differenza da altri disturbi mentali che so io la schizofrenia o la depressione in un certo senso con molte virgolette ma ci riguarda tutti perché la schizofrenia o la depressione escludono quella persona dalla società fanno soffrire quella persona fanno soffrire ovviamente la famiglia ma la cosa si ferma lì per il paranoico invece è stato studiato trovato su manuale di psichiatria americano e poi ho dedicato diciamo la maggior parte poi il più lungo studio che ho fatto è proprio quello sulla paranoia nella società e nella storia perché perché abitavo a New York nel 2001 quando ci sono stati gli attacchi eh sì eh sì e lì ho visto non diciamo i terroristi paranoici quelli lo sapevo già che c'erano perché Osama Bin Laden metteva già in internet le sue follie ma il problema è noi persino noi psicanalisti io e i miei colleghi come diventavamo paranoici in quei giorni no? come tutto tendeva a scappare di mano e per esempio i sentiti dire la civiltà orale a prendere il sopravvento e quindi una regressione come ai tempi magici a prendere il sopravvento sull'informazione veritiera no? Quindi c'è anche nella paranoia purtroppo questo lato che applicata come è successo nel caso di Hitler applicata alla politica a forme estreme di politica diventa addirittura un vantaggio invece che una malattia assicura il successo invece che l'esclusione della società del malato mentale no? c'è stato un delirio che ha preso la mano e ovviamente tutto si complica per quello che riguarda i contenuti paranoici i messaggi paranoici si complica man mano che le cose migliorano nel senso che le nostre comunicazioni migliorano c'è anche la possibilità che peggiorino cioè detto molto rozzamente finché c'era che so io le monarchie assolute il re faceva quello che voleva quando cominciano le democrazie beh ci sono i governi c'è un progresso ma anche il governo deve giustificare quello che fa e quindi è più facile dire no ma io faccio bene e che so io quelli dell'altro partito fanno stanno complottando no? nascono le teorie dei complotti che tra l'altro hanno fatto la storia d'America le conspiracies e man mano che poi il medium il mezzo di comunicazione diventa mass medium cioè sempre più rivolto a tutti tanto più si introducono questi elementi perché purtroppo diventa da mezzo di comunicazione diventa mezzo di comunicazione in massa semplificando i propri contenuti lo sappiamo già per esempio i giornali da diciamo pezzi di carta contenenti un certo numero di articoli eccetera già nella seconda parte dell'ottocento in lingua inglese cominciano a diventare la yellow press cioè la stampa di cattiva qualità con articoli brevissimi e estremamente aggressivi no? quella la degenerazione in mezzi di comunicazione è una cosa antica che poi peggiora ovviamente con le dittature del ventesimo secolo che diffondono addirittura paranoia hard prendendosela sempre contro qualcuno nella seconda metà del secolo c'è almeno da noi in Europa un ritorno alla democrazia ma ovviamente tutto è così complesso i mezzi di comunicazione si fanno così vasti no? con gli schermi anche prima la televisione poi il computer che possiamo per usare un termine che oggi si usa moltissimo potremmo dire non c'è più la paranoia hard però c'è una paranoia soft che continua a viaggiare dappertutto no? e siamo arrivati ai tempi di oggi al finale del ventesimo secolo in cui già si studia una cosa che è chiamata il paradosso di internet mi pare il primo grande studio americano è del 98 se a qualcuno interessasse c'ho i dati the internet paradox è quella cosa di cui sicuramente molti di voi sanno soprattutto i giovani e cioè che internet da un lato migliora la nostra informazione e al tempo stesso come ogni cosa l'essere umano non va all'infinito c'è un punto poi di inflessione fa una curva e poi ritorna cioè migliora sappiamo sempre di più e poi cominciamo a entrare in confusione proprio perché la nostra mente ha dei limiti come dicevo a proposito della quantità di volti che riusciamo a memorizzare quindi il paradosso di internet è limitato e oggi si studia dov'è l'effetto dove è non posso l'effetto eccolo qua questo se qualcuno vuole digitare in internet effetto Dunning-Kruger Dunning-Kruger anche questo sono due scienziati che hanno cominciato un certo tipo di studio credo nella prima decade del 2000 oggi ci sono tanti studi di questo tipo ma comunque purtroppo portata di nuovo dalla quantità incredibile di informazione abbiamo il fatto che con l'informazione immediatamente si ha una convinzione di competenza mentre la competenza reale non aumenta perché ormai nel frattempo sono aumentate la quantità di dati tale il problema è che ovviamente l'ignoranza è sempre esistita però l'ignorante sapeva di essere ignorante l'analfabeta sapeva di essere analfabeta tramite l'alfabetizzazione generale e per giunta internet siamo tutti convinti di avere accesso alla totalità del sapere per cui c'è questo effetto paradosso le vere persone competenti come vedete si rivelano soltanto col tempo un po' potremmo anche chiamarlo senza nomi di scienziati americani nome effetto Socrate ecco sapeva di non sapere e quindi diciamo c'è questa ipersaturazione ormai complessiva che porta a porta un certo numero di persone alla possibilità di accedere a un sapere estremamente ricco estremamente complesso estremamente approfondito però una gran massa di persone in generale ha una generica sensazione di sapere senza sapere e soprattutto internet ci dà un'illusione della velocità in questo sapere vedete che questa convinzione in competenza aumenta immediatamente poi invece lo studio ponderato e una cosa che non so quanti hanno seguito ma per esempio facebook ha avuto parecchi problemi perché in tanti paesi del terzo mondo sono avvenuti dei linciaggi dovuti a delle false notizie postate su facebook allora facebook dice che non permette di la pubblicazione di contenuti riprovevoli eccetera ma ovviamente non riesce a controllare tutto in tutto il mondo per esempio sono avvenuti dei linciaggi a Sri Lanka anche lì perché è misto Sri Lanka è una maggioranza buddista ma poi molti musulmani molti cristiani molti induisti e ci sono questi quelle che erano state convivenze religiose per secoli e adesso con questa aggressività eccitata così e facebook per esempio mi pare non avesse un'agenzia che controllava Sri Lanka ce l'aveva solo in India per cui queste cose avvenivano altri studi che potrete ricercare sicuramente in internet sono sui rischi di twitter twitter proprio perché comprime il messaggio rende infinitamente più frequente il messaggio assolutamente aggressivo e calunniatore di quello argomentato io voglio dire che quello quel mio avversario è un disgraziato perché ha fatto questo e quest'altro però se voglio dimostrarlo magari dovevo condurre le prove se io lo metto in un messaggio però purtroppo si crea un effetto assuefazione in tutti di noi e particolarmente pericoloso nelle giovani generazioni per cui vabbè uso internet uso facebook uso twitter uso tutto e a un certo punto non distingo più da quale di queste fonti ho saputo questa cosa anche perché un contenuto anche assolutamente falso e calunioso però rimbalza da uno all'altro e io ho l'illusione che tutti dicano questo così come un mezzo che uso di più invece è guardare perché guardo delle conferenze ma ho letto degli articoli sul New York Times youtube se noi prendiamo youtube e cerchiamo su youtube dei contenuti violenti allora sulla barra a destra dove c'è tutta la fila di altre proposte che ci fa youtube se io continuo a cliccare su quelli violenti l'algoritmo sceglie da solo in quella direzione e mi dà dei contenuti per cui dicono che favorisca molto in situazioni appunto di nuovo quelle nei paesi del terzo mondo o anche del primo mondo ma presso gli ambienti meno colti più semplici una radicalizzazione una tendenza alla violenza senza che poi le persone sappiano veramente spiegare perché perché se tante volte hai letto che devi odiare questo eccetera a un certo punto ti trovi dentro senza sapere perché e quindi un altro studio che ho fatto di recente che sono tutte cose che derivano da questo mio studio più lungo sulla paranoia il studio sul terrorismo sia sulla mentalità folle dei terroristi che abbiamo con cui siamo destinati a convivere e che prima non c'era ma anche sul fatto che ci sono dei timori molto spesso esagerati del terrorismo il terrorismo ha colpito ha ucciso molte persone ha ucciso qualche centinaio di persone negli ultimi anni in Europa in Italia però c'è lo sapete un database del terrorismo in Italia per il momento niente in Italia credo se ricordo bene l'unico morto dovuto al virgolette terrorismo è qualcuno che è morto a Torino quando c'è stato il panico per il non c'era neanche la bomba terrorista semplicemente la paura del terrorismo ha prodotto un calpestio noi torniamo animali in quel caso nella folla e quindi ha prodotto un morto e invece c'è chi dice l'ho sentito diciamo non pazienti miei di solito sono persone più differenziate però lo sento raccontare chi sente parlare di terrorismo e dice non esco più di casa perché ho paura e io ho comparato uno non esce più di casa perché ha paura ma tu non devi uscire di casa perché anche se passi sulle strisce a Milano la mortalità sulle strisce è elevatissima e perché se respiri l'aria che c'è soprattutto d'inverno la mortalità è elevatissima sapete quanti morti ci sono per la cattiva qualità dell'aria ci sono come vi dicevo qualche centinaio di morti per terrorismo ci sono state gli ultimi anni e l'agenzia europea per l'ambiente ci ha detto ultimamente che i morti per la cattiva qualità dell'aria in Europa sono vicini a circa 450 mila all'anno non 450 450 mila e continuano ad aumentare vicini al mezzo milione in Italia 83 84 mila quindi sì non dovrei uscire di casa ma per la schifezza che respiro evidentemente e allora andrei all'altra slide che avevo che questa me l'ha andata una volta l'ho rubata a una trasmissione televisiva cui mi avevano fatto partecipare vedete per un po' di paesi dell'unione europea la linea gialla ci dice qual è il numero dei musulmani presenti alto e ovviamente c'è un problema di integrazione proprio per la diversità religiosa più che con altre religioni però la linea grigia corrisponde alla convinzione del cittadino medio di quanti siano i musulmani in quel paese vedete la sproporzione vedete la sproporzione tragica quindi voglio dire purtroppo qui in questo che ho chiamato il differenziale paranoico c'è un potenziale di scontri etnici anche nella nostra pacifica Europa di diffidenze di eccessi di sospetti di non lo so e in questa cattiva notizia non vorrei però lasciarvi con la cattiva notizia perché se guardate giù in basso paradossalmente vedete la buona notizia e cioè dove i musulmani praticamente non ci sono la sproporzione è più forte in Polonia sono lo 0,1 della popolazione quasi inesistenti il pubblico è convinto che siano il 5% in Ungheria sono lo 0,1 e il pubblico è convinto che siano il 7% cioè 70 volte tanto quindi ovviamente come in tutte le questioni paranoiche ovviamente c'è un rischio da qualche parte non è che la nostra mente si inventa tutto però il rischio reale in questo caso corrisponde a un settantesimo e 69 settantesimi sono l'aggiunta delle nostre eccessive paure del nostro timore eccessivo della diversità un'ultima osservazione all'interno di uno di questi paesi che tra l'altro è quello in cui è minore la differenza tra percezione della presenza e presenza cioè la Germania perché dopo il nazismo c'è questa educazione martellante alla tolleranza e ai diritti in Germania c'è una forte fortissima differenza tra Germania occidentale e Germania orientale ovvero Germania ex comunista come sicuramente saprà la maggior parte di voi i lender della ex Germania comunista sono rimasti nonostante tutto nettamente più poveri quindi hanno sono l'unica parte della Germania dove c'è disoccupazione e dove non vanno gli immigrati quindi non ci sono immigrati lì nascono i movimenti anti-Islam anti-immigrati se invece ci vivi gomito a gomito naturalmente c'è delle difficoltà naturalmente dei pregiudizi e dei problemi però la tensione è molto molto minore e quindi stare vicini conoscere l'altro essere umano è sempre il rimedio migliore contro i pregiudizi e l'aggressività vi ringrazio sono qua se qualcuno vuole fare non qualche domanda perché non ho risposte infinite ma qualche commento su temi così complessi in particolare ovviamente i liceali buonasera la mia domanda è che cosa pensa dell'utilizzo del cellulare in classe come strumento strumento didattico non lo so ai miei tempi non c'era non so come immagino che possa essere usato come strumento didattico quello che so che in Francia adesso sono uno degli esperimenti che sta tentando Macron è quello della limitazione dei cellulari nelle scuole francesi io in generale sono favorevole a una certa limitazione però sto rispondendo qualcosa nella direzione opposta diciamo voglio solo dire come dicevo prima tavola mia moglie è psicanalista anche lei ma per bambini ha molti bambini in trattamento mia moglie ha avuto un bambino di sette anni come dire dipendente tossico dipendente dalla pornografia perché i genitori gli hanno regalato il migliore smartphone queste buone famiglie ben educate e tutto che pensano che i figli debbano avere il meglio e lui ha imparato subito dai compagni fra i quali troppi a sette anni credo seconda elementare hanno lo smartphone ha imparato a guardare questo e ascoltate cosa ha detto poi è interessante perché anche lì diciamo c'è un istinto un istinto sano che al tempo stesso può diventare rapidissimamente un istinto malato ha detto non so cosa sia e mi fa schifo e però ha detto anche però non posso fare a meno di guardarla pensate il danno enorme cioè la sessualità adulta di un bambino come può essere rovinata così per la stupidità e l'eccesso quindi nelle elementari sono sicuro certamente ce l'hanno troppi però non non saprei dire nelle classi superiori ovviamente ci saranno modi più intelligenti buonasera a tutti la mia domanda è lei studia i temi più attuali e le problematiche della nostra società qual è oggi il compito della psicoanalisi rispetto a tali problemi bravissima cioè bravissima vorrei che rispondesse lei io ho 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 iniziato qua siccome volevo lasciare spazio anche a voi non ho ma tante volte inizio le conferenze parlando proprio di questo e in realtà ho scritto dunque c'è un libretto sempre di queste vele in Audi questi tascabili di cui appunto ho visto ci sono certi titoli miei un'ottima collana questa delle tascabili ce n'è uno fatto da quattro autori in difesa della psicanalisi ci sono due freudiani un lacaniano e io come e lì ho trattato di più questo tema cioè nel secolo ventesimo soprattutto negli anni sessanta e settanta quelli in cui mi sono formato c'era diciamo una tendenza a usare erano anche gli anni dei movimenti politici del freudo-marxismo eccetera io tra l'altro proprio nel 68 ho lasciato gli studi di sociologia e il movimento per andare a Zurigo perché ero ambivalente c'era un'onnipotenza si voleva combinare la psicanalisi con dottrine tipicamente appunto Freud e Marx nel creare una società nuova ed era un'idea per dirla in inglese però top down da parte degli intellettuali che formulavano qualcosa di nuovo c'era un'esagerazione e un'onnipotenza oggi sicuramente vedo un errore nel fatto che la psicanalisi stia diventando una sorta di specializzazione molto specifica e che gli psicanalisti o tutte le forme di psicoterapia siano dei terapeuti individuali che si chiudono con il loro paziente individuale nel loro studio saltando questi contributi che francamente la psicanalisi mi sembra può dare ancora magari bottom up non top down dibattendo andando cioè io ci credo mi vedete qui perché ci credo che si può dibattere di più e fare di più mi spiego non si rinuncia un po' troppo rinunciando come dire oggi stranamente rispetto al secolo ventesimo soprattutto anni 60 70 80 la psicanalisi è diventata una con la specializzazione all'interno di psichiatria che è una specializzazione all'interno di medicina che è una facoltà interna all'università la quale università è una parte della società nobile e tutto ma tutto uno specialista e siamo troppo nella specializzazione uno dei mali del postmoderno del ventunesimo secolo è nella specializzazione ci vuole anche uno sguardo più mi sembra più ampio nel secolo scorso cioè quindi la psicanalisi è diventata un contenuto specifico 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 un tempo magari esagerando non era un contenuto ma addirittura un contenitore che ti dava un cambiava la visione dell'uomo nel ventesimo secolo ha cambiato la visione dell'uomo se lei pensa perché questo l'avete studiato anche voi la grande letteratura del ventesimo secolo cambia la condizione dell'uomo perché è tutta psicanalitica cosa sono no? Kafka Joyce Virginia Woolf Proust no? è tutto psicanalitico cioè fino all'ottocento la letteratura è descrizione adesso semplifico ma insomma soprattutto esterna poi diventa quindi la psicanalisi assolutamente in tutti questi autori che citavano ha avuto un ruolo questo cambiamento di visione appunto fin troppo ed è stata una stagione non è ripetibile ma ci vuole più analisi psicologica anche oggi buonasera secondo lei se per una causa qualsiasi la tecnologia scomparisse cosa succederebbe nel mondo sapremmo recuperare la prossimità che abbiamo con gli altri perso questo è molto provocatoria se sparisse la tecnologia che so magari sparirebbero anche gli ospedali le medicine questo sarebbe un po' no? oppure dovremmo tornare a spostarci a piedi o o o o ad orso d'asino questo certo diciamo la difficoltà nel gestire le aggressività dell'uomo va di pari passo anche con la tecnologia questo sì l'ho chiamata anche in qualche scritto la asimmetria del male purtroppo no? perché la tecnologia e sì quando quando lei vuol distruggere qualcuno la tecnologia permette cioè un tempo anche le battaglie anche le crudeltà erano limitate perché lei doveva prendere la spada e ammazzare un altro e era una fatica era un orrore non solo per la vittima ma anche per chi ammazzava poi pian piano le armi a distanza poi la bomba l'atomica e adesso i droni questo no? la cosa asettica quindi questa è la simmetria del male non incide più niente quindi è facilissimo è facilissimo distruggere no? e invece il bene dopo che c'è stata un'uccisione ma qualunque cosa dico la simmetria del male anche nel senso gli abusi sessuali la violenza sessuale così no? basta un momento di un psicopatico egoista e poi ci vogliono sì si può recuperare ma ci vogliono anni di terapie per recuperare un bambino vittima di un pedofilo o una donna che ha subito un assalto di un violentatore no? quindi c'è una simmetria la tecnologia certamente ci porta delle asimmetrie spaventose nella distruttività no? come dicevo si va sempre più a una cosa asettica adesso si uccide con i droni voi sapete che l'aviazione americana da tempo ormai addestra molti più piloti della console che piloti all'aereo perché ormai si uccide il nemico col drone però uccidendo il nemico col drone è già capitato e infatti naturalmente gli americani che hanno per fortuna degli immensi bilanci e anche una consapevolezza di queste cose fanno anche infiniti corsi e supporti psicologici perché ci sono questi uomini che abbracciano il bambino lo portano a scuola e poi vanno in ufficio e ammazzano degli altri bambini in Afghanistan perché hanno schiacciato il battone un po' più in là e dopo lo apprendono magari tempo dopo è tutto asettico quello che si fa quindi effettivamente la tecnologia ha degli aspetti spaventosi cosa possiamo fare dibattere dibattere essere più consapevoli di queste cose non credo che si possano fermare le armi non si riesce a proibire le armi chimiche che sono proibite le armi atomiche eccetera però si possono fare dei dibattiti come questo per cui vi ringrazio se erano altri giovani no c'era qualche meno giovane che voleva fare un intervento c'è stata una polemica su due parole sulla razza ed etnia perché nella costituzione italiana si si dichiara espressamente che l'Italia difende tutti gli uomini di qualsiasi razza essi siano diritti e doveri no ora io fra le due parole preferisco etnia che razza va bene perché la razza specifica in modo puntuale una certa persona mentre per etnia è molto è molto più è molto più più vasta ecco lei che cosa che cosa pensa di questo di questo problema perché si si non si usa quasi più la parola razza proprio perché veniva usata nel secolo scorso nella veniva usata nell'ottocento e ancora nella prima parte del novecento ma sulla base di falsi presupposti cioè senza distinguere tra razza e cultura in realtà addirittura Freud che si impegna per ovviamente per i diritti degli uomini in tutti i sensi che era ebreo e tutto però usa ancora nella sua corrispondenza la parola razza poi Jung è stato accusato di essere razzista per avere fatto certe distinzioni in realtà erano distinzioni culturali quindi in generale se riusciamo a sostituire la parola razza con la parola definitivamente con la parola cultura o etnia che è più diciamo antropologico però va benissimo senz'altro quantomeno depotenzia quel potenziale terribile che ormai è associato alla parola razza allora lei perché la tecnologia è venuta di distruggere scientificamente quindi attraverso i droni e io dico anche anonimamente perché il cyberbullismo è effettivamente una manifestazione di questa possibilità di denigrare una persona con una quantità di contatti incredibili senza che ci sia però un viso insomma qualcuno che ti guardi negli occhi e ti dica tu sei questo ecco volevo solo due parole su questo aspetto ne so poco perché per fortuna i miei figli un po' cominciano ad avere una certa età e un po' non sono stati veramente vittime tranne l'ultima forse un minimo quando eravamo in a me ma ovviamente è difficilissimo mi sembra da quello che capisco fare qualcosa e al tempo stesso è particolarmente particolarmente spreggevole perché le persone sono vigliacche sono lontane non c'è neppure più quella guardarsi negli occhi quando vuoi offendere qualcuno o aggredire qualcuno in questo modo soprattutto quello che mi sembra di capire è quel poco che ho capito da quella relativa familiarità che ho con le tecnologie è che la tecnologia sostanzialmente qua siamo di nuovo a internet è di nuovo con l'estremo vantaggio della capillarità dell'arrivare in tutto il mondo a costo zero e a tempo zero praticamente perché arriva subito però la velocità è molto pericolosa per noi umani perché noi abbiamo bisogno della riflessione noi abbiamo bisogno credo che in America dove fanno fanno addirittura un po' fin troppo gli esperimenti e poi quantificano ma hanno addirittura misurato che diciamo la chat era la prima cosa peggiorava la qualità rispetto a non so altre forze la corrispondenza o anche l'email che è ancora una corrispondenza perché per la rapidità della risposta noi perdiamo l'elemento morale l'umano medio per far entrare l'elemento morale in una risposta dicevano ha bisogno di un 8 o 10 secondi e in queste cose non quelli che chattano così non si danno gli 8 o 10 secondi rispondono tutte immediatamente invece l'espressione negativa che non è stata filtrata dall'altruismo o comunque dal senso sociale che di nuovo non è solo istinto ma deve essere quella qualità umana che abbiamo acquisito perché non possiamo fermarci alle animali non si arriva quasi mai a quello l'aggressività invece corrisponde ai tempi di internet perché è rapidissima è più facile quando sono arrabbiato rispondere rapidamente e invece ripensarci e non aggredire sia fisicamente ma naturalmente a distanza è facilissimo perché tu rimani collegato tutto il tempo e puoi dire tutto e puoi continuare a dire hai questa sensazione di onnipotenza anche perché ovviamente puoi offendere sostanzialmente tutti con offese pesantissime e almeno al momento apparentemente continua a non succedere niente quindi ti dà appunto questa illusione di onnipotenza di nuovo la tecnologia la quale a sua volta l'illusione di onnipotenza la quale a sua volta produce egoismo egocentrismo e quindi di nuovo altre risposte ancora più bulliste quindi c'è esattamente un circolo vizioso che si autoalimenta sì io ho visto l'appunto che mi ha presentato interessantissima non lo conoscevo la domanda perché sicuramente interessante allora la domanda è questa adesso ricorderà senz'altro che ad un certo punto negli Stati Uniti qualche anno fa tutti i dirigenti dei grandi gruppi industriali dicevano a 25-30 anni eccetera perché dicevano che evidentemente portava eccetera eccetera non so di che anno sia come curva ma evidentemente gli Stati Uniti allora erano praticamente all'apice eccetera 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 ecco quindi effettivamente questo non è successo questi sono studi della prima decade della prima decade di di questo secolo sì 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 un'altra cosa di cui forse avranno letto i ragazzi se hanno letto la morte del prossimo è che in realtà l'internet ha aumentato molto certi tipi di disonestà aziendale quello sì perché è cambiato ma non solo aziendale ovviamente adesso vado a ripensare era anche il soggetto di tanti libri d'avventure o film la rapina in banca rapinatore è un essere che non prendiamo in teoria come modello però in fondo era anche un eroe che rischiava la pelle e magari usciva da una banca con che so io un sacchetto con un paio di decine di migliaia di euro o di milioni a suo tempo che mica ti cambiano la vita francamente e rischiava la pelle adesso il vero rapinatore è quello mi ricordo avevo seguito molto come si chiamava Jérôme Kerviel quel ragazzo francese che nel 2007 aveva sfondato tutte le password della come si chiama la seconda mi pare banca francese e continuava a giocare al rialzo al rialzo al rialzo e se era il 2007 in effetti le borse andavano su poi è venuto l'autunno del 2000 e le borse hanno cominciato ad andare giù lui è impazzito ha giocato ancora di più al rialzo aveva fatto un buco di non ricordo quante decine di miliardi di euro una cosa pazzesca e tra l'altro c'era la questione se la banca veramente non sapeva o se fino a che le cose andavano bene comunque quello che mi interessava ricordo che compravo Le Monde tutti i giorni quando c'era il processo vedere cosa diceva e a un certo punto lui ha detto era un trentenne diceva io sono un giovane io sono un quasi nativo digitale ma soprattutto io con i videogiochi sono sempre stato il primo e a me pareva di essere ancora nel grande videogioco cioè se tu entri in banca con la pistola spari eccetera col cavolo ti rendi conto che stai commettendo un reato che stai rischiando l'ergastolo e cose di questo genere questo non si rendeva conto di niente il problema è che la digitalizzazione può perdere può farti perdere questa insieme alla presenza fisica con la deprivazione sensoriale anche la qualità morale la cognizione di quello che stai facendo se io rubo a qualcuno c'è tutta la gente chi ruba ma poi c'è sempre anche un Robin Hood perché se tu vedi quello a cui hai puoi anche impietosirti e lasciare i soldi a quello e rubare a quell'altro che ti sembra faccia meno differenza quello che ha posteggiato un macchinone davanti alla banca prendi i soldi a lui non lo so c'è tutto questo l'anonimato ti permette ti nasconde anche a te stesso tu diventi straniero a te stesso e dipendi talmente dalla macchina che diventi anche tu una macchina vai solo con le cifre riesci a aumentare quella cifra e continui a giocare così ma è anonimo non c'è l'altro essere umano così come appunto non c'è l'umanità nel senso anche che ci sono queste cose anche che naturalmente internet può servire anche a uscire dalla da un lato provoca solitudine dall'altro può servire a uscire dalla solitudine per cui sono infiniti i casi degli aspiranti suicidi che mettono in rete la propria intenzione di uccidersi per avere qualche solidarietà o per comunque qualche comunicazione però anche lì c'è sia la solidarietà sia il mobbing c'è chi dice ma dai perché ci stai a annoiare no? falla finita perché? perché quello è solo un nome una notizia non è una persona davanti a te che si mette la pistola in bocca per spararsi un po' diverso prego io volevo mettere qui c'è qualche test di questa sera per avere uscire con una voglia di la ragazza che è intervenuta però prima ci ha giustamente detto voi tutti ci avete dato questo prodotto poi lei ci ha raccontato del bambino che è stato vittima di questo strumento e la tua famiglia nel violare galate sanno di dare il video in questa in altra notte c'è stato un blackout di Vodafone questa mattina mi sono recata il negozio per tutt'altro e questa signora di Vodafone mi raccontava c'è stata una città dove addirittura la gente ha preso d'assalto i negozi e qualcuno ha detto chiudere letteralmente le porte perché la gente dirà questa la notte sono che io sono stata di nota allora noi adulti diciamo questi giovani all'ustore cellulare non parlano più in realtà noi però siamo stati inconsapevoli di consegnare loro qualcosa chiudo dicendo che abbiamo trovato a fare anche a livello locale degli incontri per parlare delle nuove tecnologie o atteggitori ma non c'è più il desiderio non c'è più tanto di uscire la sera di andare ad ascoltare qualche cosa abbiamo avuto poche aziende e lavori e pochi genitori curiosi quando si vuole parlare con i giovani ci si chiede ma dove chiamiamo oppure come parliamo loro allora di tutto questo marzo di inconsapevolezza di calo di velocità che probabilmente ha preso anche come dire tutti un po' alla scordista qual è la speranza rispetto a questo tema perché la soluzione c'è sempre assessore lei dice la soluzione c'è sempre sì questo gli storici dicono la storia non conosce situazioni senza sbocco è vero questo la politica anche potete dire però diciamo ci sono certi sbocchi migliori altri peggiori e siamo appunto richiamavo anche c'è stato anche Hitler o Stalin ecco non lo so non lo so certamente certamente dobbiamo come l'uovo e la gallina e anche il genitore e il ragazzo vanno educati i ragazzi ma vanno educati i genitori se no daranno ai ragazzi le cose sbagliate soprattutto in in concomitanza con quello che è stato poi descritto come una graduale perdita dei valori di solidarietà della nostra società e individualismo si sono create comunque delle difese dei nuclei familiari e quello che avviene oggi per quello che riguarda la scuola e i rapporti con i ragazzi mi sembra di avere verificato questo con colleghi appunto che si occupano come mia moglie o quelli dell'istituto Minotauro a Milano che è molto avanti in queste cose no c'è il problema che io chiamerei non c'è una denominazione io la chiamo collusione genitoriale cioè col ragazzo ha già capito cosa alludo col ragazzo che sgarra molto spesso succede così perché appunto perché siamo diventati individualisti e quindi mio figlio è come una protesi di me mio figlio padri e madri per esempio si dice io mi sono occupato del tema del padre i padri sono un pochino più coinvolti eccetera però magari sono diventati delle infatti c'è il problema cosiddetto del mammo il figlio ha non toccare la mia creatura per cui un tempo il ragazzo a scuola ne combinava una il professore faceva la nota sul diario il ragazzo doveva andare a scuola accompagnato dal genitore possibilmente un tempo dal padre il padre ascoltava l'insegnante alzava il dito e faceva così guardando il figlio adesso succede la stessa storia il padre va col figlio dall'insegnante alza il dito ma guardando l'insegnante dicendo lei non si permetta di trattare così mio figlio e questa è una rottura del tessuto sociale perché ovviamente bisogna lasciare spazio agli insegnanti e non non privilegiare il tuo figlio ecco questo in questo senso un'educazione per i genitori manca oggi sono tutti non solo troppo occupati ma quando se ne occupano hanno spesso dei falsi valori insomma prendono il figlio come parte micor un momentino si è trasgredito grazie